Buonasera a tutti, non si ferma la grande onda di manifestazioni in Francia convocate dai sindacati e oggi a dimostrare che il clima è fuori da ogni parametro arriva l'appello di Kylian Mbappé, il giocatore più famoso d'Europa che si unisce al suo compagno di squadra Turan e dice due cose non votate per chi divide il paese e poi un'altra ancora più forte nel suo appello contro il Rassemblement National di Marine Le Pen speriamo di essere orgogliosi di poter indossare questa maglia anche dopo il voto politico in Francia è sceso in campo, è sceso in campo anche lui, sono iniziati gli europei del resto ma noi stasera abbiamo il segretario generale della CGL Maurizio Randini che ringraziamo mancano pochissimi secondi, arriviamo, state lì, arriviamo siamo tornati in diretta in onda con il socio Luca Telese e col segretario nazionale della CGL Maurizio Randini che ringraziamo per essere qui con noi in onda iniziamo subito con le spine perché quelle ci sono in giro abbiamo visto i risultati delle elezioni in Europa insomma le destre avanzano e abbiamo visto, anzi glielo facciamo vedere subito con un cartello che le destre avanzano in Europa e non solo, il cartello si riferisce ecco queste sono le destre europee, il dato a sinistra è paragonato con quello delle elezioni precedenti del 2019 insomma vediamo che appunto in Francia, in Germania, in Austria e in Spagna le destre crescono ma l'altro cartello che volevo farle vedere è quello del voto degli operai visto che iniziamo subito a gamba tesa perché anche in Italia, eccoci qua, il voto degli operai in Italia alle ultime europee è andato per il 39% a Fratelli d'Italia è solo il 16% al principale partito del centro-sinistra sì, lì manca anche un dato che dal 58% al 60% non è andato a votare si completa in questo modo, quindi quelli che vanno a votare votano in un certo modo ma sei di fronte al fatto che il 60% non va a votare quindi vuol dire che in questa fase hai una maggioranza di persone anche nel mondo del lavoro che non si sente rappresentato da nessuno però lei non vuole sminuire quel dato? no, no, io non sminuisco quel dato lì quello è un dato che c'è, aggiungo e invece rafforzo il fatto che siamo in presenza di una seria crisi democratica perché addirittura nel nostro paese, è la prima volta nella storia del nostro paese che ad elezioni politiche chi va a non votare rappresenta la maggioranza di questo paese e per me questa è una rottura democratica gravissima che pone la necessità di recuperare perché se quelli che stanno peggio, i lavoratori, i disoccupati cioè se quelli che stanno peggio non vanno a votare vuol dire che non si sentono rappresentati da nessuno e io penso che questo sia il tema se quelli che vanno a votare votano a destra quindi la destra rappresenta meglio gli operai rispetto al centro di vista allora adesso anche questo naturalmente sì, quelli che vanno a votare votano a destra anche questo va visto perché siamo di fronte a un dato che se andiamo a vedere in Europa è vero che c'è l'ondata ma i numeri in Europa dicono che la possibilità di fare un governo con forze che non siano di destra c'è poi il tema è fare delle politiche che non siano di destra anche se tu non sei di destra perché una delle ragioni che in Europa sembra molto fiducioso lei no, lo dico no c'era uno studio nella Commissione Europea dieci mesi fa fatto dalla Commissione Europea che diceva già che le forze di destra non adesso, dieci mesi fa che erano emerse guarda caso avevano presi voti nelle zone dove c'era più disagio sociale dove era aumentata la diseguaglianza dove c'era più precarietà quindi in Europa chi oggi non è di destra deve assumere come linea che la politica d'austerità è sbagliata che va cambiata è il momento di fare gli investimenti è il momento di investire sul lavoro è il momento di non lasciare solo le persone ma di dargli delle risposte molto concreti se poi guardo quello che è avvenuto in Italia e mi permetto di dire vorrei fare anche questo quadro perché per me emergono due temi uno che chi è al governo anche la somma dei voti che ha preso ci dice due cose uno che non sono maggioranza del paese perché la maggioranza di quelli che vanno a votare votano per forze politiche che non sono al governo questo governo non ha superato il 47% quindi non ha il 51% in questo paese due è un governo con forze politiche che in meno di due anni ha perso 1.300.000 voti quindi questo che tutto questo significhi che va tutto bene di cui non mi pare non mi pare che sia così io dico rimangono aperti oggi problemi molto forti e bisogna rimettere al centro i bisogni delle persone cioè di fronte a una democrazia che è in crisi con il rischio di una rottura bisogna tornare a praticare la democrazia e penso addirittura che con quello che sta succedendo e con quello che stanno discutendo vogliono fare l'autonomia differenziata vogliono fare il premierato guardiamo lo spettacolo che c'è in Parlamento ecco io credo che è il momento non di dividere questo paese di unirlo ed è il momento di applicare davvero i principi e i valori della nostra Costituzione e allora guardiamo il giudizio che Giorgia Meloni ha dato di quell'aggressione non la chiamiamo così al deputato donno dei 5 Stelle perché ha esibito un tricolore la storia la conoscete ma guardate e commentiamo insieme la risposta di Giorgia Meloni salve presidente alla vigilia di questo G7 alla Camera è andata in scena una bagarre tra parlamentari piuttosto inedita il presidente del Senato l'ha definita un arachiri proprio nel momento in cui gli occhi del mondo erano puntati sul summit in Puglia volevo sapere cosa pensa di questo episodio e se le ha creato imbarazzo adoro l'incipit alla vigilia del G7 per inserirlo nella materia di oggi ma le rispondo volentieri guardi io trovo molto grave che ci siano esponenti della maggioranza che cadono nelle provocazioni prevedo che le provocazioni aumenteranno penso che i cittadini italiani si debbano interrogare su quale sia l'amore che hanno per la loro nazione esponenti politici che cercano di provocare per ottenere un risultato come quello che hanno ottenuto dileggiando membri del governo cercando di occupare i banchi del governo proprio mentre gli occhi del mondo sono puntati su di noi quindi per tutti quelli che sono bravi a darci lezioni sul rispetto delle istituzioni forse se si parte dal rispetto per la propria nazione si arriva anche a un rispetto per le istituzioni che non ho visto in questi giorni in ogni caso neanche questo è riuscito a rovinare l'ottima riuscita di questo vertice Io penso che sentire dal governo queste parole a me fa girare un po' le scatole perché noi siamo di fronte a un governo che sta in realtà disprezzando il Parlamento perché oggi il Parlamento non è messo nella condizione di fare quello che dovrebbe fare perché le leggi anziché farle il Parlamento le fa il governo perché in Parlamento non sta svolgendo la sua funzione perché non fanno altro che votare a colpi di maggioranza nelle commissioni e con decreti ed è lo stesso governo che sta impedendo alle organizzazioni sindacali e anche in molti casi alle organizzazioni imprenditoriali di svolgere quella funzione prevista dalla Costituzione di essere cioè dei soggetti che rappresentano i bisogni di chi lavora con cui il governo dovrebbe contrattare e trovare delle soluzioni Però la Menoni dice che le opposizioni provocano No, arriviamo lì Qual è la provocazione? Quella che uno ci arriva presenta il tricolore? Io tra l'altro sono nato a Reggio Emilia a Reggio Emilia è nato anche il tricolore Il tricolore non è che una cosa offensiva Il tricolore per uno che è democratico nel nostro paese è un valore di unità è un valore di riconoscimento del pluralismo Quindi quale sarebbe la provocazione? E la reazione alla provocazione qual è? Quello di richiamare la decima mass? Qualcuno dovrebbe ricordarsi che se avessero vinto quelli lì i fascisti e la decima mass oggi non ci sarebbe né la democrazia né ci sarebbe il tricolore né ci sarebbe la patria Quindi quando sento queste cose a chi ha giurato sulla Costituzione certe cose questo governo non le può dire se ha giurato sulla Costituzione tanto più perché è stato presentato il tricolore? Perché questo governo vuole fare l'autonomia differenziata cioè vuole dividere ancora più il nostro paese con tante divisioni che ci sono e addirittura vuole cambiare la Costituzione Io lo dico in modo molto chiaro Per quello che ci riguarda quella è una battaglia che vogliamo fare fino in fondo se necessario usando anche lo strumento referendario per abrogare l'autonomia differenziata se la faranno e per difendere la nostra Costituzione Tra l'altro non è una cosa nuova noi nell'ultimo anno come Cigelli insieme a più di cento associazioni laiche e cattoliche abbiamo proprio dato vita a un movimento in tutto il paese con manifestazioni che si chiama Via Maestra Vi accuseranno di fare politica Landini Assolutamente No, lo stiamo facendo perché difendere la Costituzione è un atto politico che qualsiasi organizzazione democratica deve fare e noi siamo pronti ad andarsi in fondo la Via Maestra per noi oggi è applicare i principi della Costituzione la vera rivoluzione da fare in questo paese è applicare i valori i principi della Costituzione il diritto al lavoro dignitoso una sanità pubblica garantita un fisco che faccia pagare le tasse a chi le vada il diritto di far studiare i propri figli di impedire che i giovani se ne vadano all'estero perché qui sono sfruttati di combattere le illegalità e la malavita organizzata questo è quello che si deve fare ed è questo quello che non stanno facendo e lei se la prende perché un parlamentare italiano arriva col tricolore questa sarebbe la provocazione ma con quale faccia ha guidato il G7 o il governo pensa di guidare il G7 se addirittura considera una provocazione quelli che usano il vessillo del nostro paese e della nostra nazione lo trovo sicuramente un paradosso e da un certo punto di vista lo dico in modo molto chiaro per me la democrazia della nostra Repubblica va difesa in tutti i modi e pensare al referendum io credo che sia il modo più democratico di questo mondo perché noi chiediamo ad ogni cittadino del nostro paese di tornare a riprendere la parola per difendere la sua libertà la libertà di esistere la libertà di essere un soggetto che conta e non semplicemente che viene sfruttato o utilizzato o considerato una merce che si può comprare e vendere insomma vista l'importanza che la Presidente del Consiglio riconosce al valore dell'espressione dei cittadini dovreste essere d'accordo almeno su questo insomma sulla consultazione popolare vedremo se sarà davvero così lei però ha detto che appunto la Costituzione i valori costituzionali sono quelli che dovrebbero guidare tutta l'azione non solo del governo ma insomma del paese la Costituzione è profondamente antifascista e questa è stata oltre la settimana della bagarre dell'aggressione alla Camera derubricata a folklore o a provocazione anche la settimana di una splendida inchiesta di fanpage mandata in onda da Piazza Pulita in cui si sono visti i giovani di Fratelli d'Italia la gioventù diciamo miloniana inneggiare non solo al duce ma anche rievocare nel linguaggio nel lessico un passato diciamo un passato nero ma è folclore anche questo non ha memoria io vorrei ricordare che meno di due anni fa hanno assaltato la sede nazionale della Cisiella e quello glielo chiede non so se non è proprio e nella storia di questo paese quando sono state assaltate le camere del lavoro era perché hanno cercato di cancellare la democrazia quindi non sono cose che non esistono sono cose che ci sono ma la stiliscia il silenzio di Giorgia Meloni su quei giovani che lei ha pubblicamente loggiato in tutte le occasioni io banalmente penso che bisogna ribadire con forza il valore della nostra democrazia noi siamo una democrazia perché abbiamo sconfitto il fascismo e il nazismo e siamo antifascisti e la nostra dice la Costituzione è una Repubblica democratica virgola fondata sul lavoro e fondata sul lavoro vuol dire che le persone che per vivere hanno bisogno di lavorare lo debbono fare con dovere ma debbono avere dei diritti uno deve poter vivere dignitosamente quindi ci vuole uno stipendio che ti fa vivere uno non deve essere precario ma deve avere la possibilità di fare un lavoro stabile la dico in modo molto secco la libertà di esistere oggi è messa in discussione di esistere per essere un cittadino libero non solo nel luogo di lavoro ma che può partecipare che ha il diritto di curarsi che paga le tasse che vuole che funzionino le cose Meloni dice che va tutto bene vogliamo vedere la clip non è assolutamente così proprio sul lavoro proprio sul lavoro e sull'occupazione se facesse così bene in un anno non perde un milione e trecenti di lavoro se proprio facesse così bene può darsi che gli andava anche meglio oggi pur in una situazione difficile l'Italia è finalmente tornata a crescere più della media europea è cresciuto l'export è sceso lo spread e la borsa italiana nel 2023 è stata la migliore in Europa ma soprattutto abbiamo toccato il tasso di occupazione più alto di sempre aumentano i contratti stabili aumenta l'occupazione femminile diminuisce il rischio di povertà e dopo tre anni i salari sono tornati a crescere più dell'inflazione bisognerà consentite una battuta qualcuno vi ricordasse che crescere non vuol dire semplicemente ingrassare crescere vuole anche dire non lo dica a me no ma lo dico banalmente perché adesso sinceramente ascoltando quelle cose qui io mi chiedo al di là degli spot elettorali uno deve avere il coraggio se governa di dire la verità non di raccontare delle balle di dire la verità sono aumentati i numeri? certo se uno guarda i numeri i numeri sono aumentati ma uno dovrebbe guardare non i numeri le persone che lavoro fanno quanto prendono qual è la condizione? ce lo vogliamo dire? noi siamo un paese che è arrivato ad avere 4 milioni e mezzo di part time cioè di gente non che ha scelto di fare il part time ma che lo fanno lavorare meno ore queste persone non ce n'è una che supera gli 11-12 mila euro lordi l'anno vuol dire essere poveri lavorando ci sono 3 milioni che sono con contratto a termine c'è un milione che fa il lavoro a chiamata che non arriva 5-6 mila euro l'anno c'è un milione che è il lavoro somministrato per non contare il numero di partite IVA o di lavoro autonomo che è cresciuto che hanno livelli di vita che non arrivano pure loro alla fine del mese quindi in un paese dove tu hai più di 10 milioni di persone che pur lavorando sono povere come fai a raccontare di quelle storie di questa natura? e i contratti nazionali certo alcuni sono stati rinnovati grazie a noi grazie alle lotte che abbiamo fatto perché i contratti che dipendono dalla Meloni la sanità la scuola i pubblici e pendenti sono tre anni che sono scaduti e di fronte a un'inflazione del 17% il governo ad oggi ha messo il 5% se io firmassi quel contratto firmo la riduzione programmata dei salari e non tutelo quel salario nella prossima legge di bilancio a settembre al di là delle chiacchiere cosa fanno? ci mettono i soldi per rinnovare i contratti ci mettono i soldi per investire sulla sanità pubblica e superare davvero le liste d'attesa fanno davvero una riforma fiscale anziché fare tutti i condoni che hanno fatto fino adesso che davvero intervenga e vada a prendere i soldi dove sono combattendo l'evasione tassando i profitti e gli extra profitti tassando le rendite finanziarie ma dove vivono? un altro indicatore pensano davvero di andare avanti tanto così? sull'occupazione di Andini è che aumenta è un movimento anomalo quella di coloro che hanno un'alta età quindi praticamente sono persone che non sono andate in pensione hanno bloccato le pensioni altro che modifichiamo la Fornero se vi ricordate il ritornello cancelliamo la Fornero sono riusciti a peggiorarla perché hanno bloccato tutto non ci va più nessuno in pensione e infatti l'occupazione sta aumentando negli over 65 e addirittura quando dice donne noi siamo il paese in Europa che è al livello di occupazione femminile più basso d'Europa e quando parlo di part time il 74% sono donne e riguarda il mezzogiorno perché non parla dei 100.000 giovani che ogni anno se ne vanno via dal nostro paese siamo un paese che sta invecchiando che si sta riducendo e abbiamo i giovani laureati e diplomati che gente intelligente che per non stare qui ad essere sfruttati vanno all'estero dove vengono riconosciuti dove lavorano e quindi noi stiamo perdendo anche intelligenza oltre ai soldi perché la formazione di quei giovani costa abbiamo pagata noi però io vorrei mantenerla proprio sul lavoro perché ha parlato di referendum di raccolta firme insomma c'è quella che state già facendo sui quattro quesiti che hanno proprio il lavoro come oggetto e in qualche modo sul banco degli imputati il Jobs Act di Renziana Memoria allora io eccoli qua i quattro quesiti li vediamo hanno a che fare appunto con i reintegri dei licenziamenti illegittimi con la facilità di licenziare nelle piccole imprese sul lavoro a termine e la responsabilità in caso di infortuni poi ci arriviamo agli infortuni sul lavoro perché insomma è una strage che ahimè anche qui a Inonda abbiamo raccontato più volte però Jobs Act lei con questa cosa del referendum tanto per cambiare ha creato dei problemi a sinistra le facciamo vedere che cosa è successo il Jobs Act ha creato più di un milione di posti di lavoro mi piacerebbe che invece i democratici fossero tanti a firmare per il referendum per riscattarsi dalle errori che hanno fatto nel votare per la legge sul giobatte l'abbiamo fatto quando coordinatore della mia campagna elettorale c'era un signore che si chiamava Stefano Bonaccini chi vuole nel partito democratico può firmare il referendum di una grande organizzazione come la CGL sicuramente non firmerò hanno tutti votato per il Jobs Act dopodiché uno può tranquillamente perdere delle elezioni ma non può perdere la faccia quindi noi siamo felicissimi di essere qui e firmare questo referendum penso che Jobs Act non abbia in alcun modo aumentato la precarietà al governo a votare a favore c'erano Andrea Orlando non è che ho dubbi da che parte stare io so che Jobs Act va cambiato non lo so da oggi io mi metto tra quelli che firmeranno si scrive PD ma si legge CGL questo meraviglioso collage di Lidia Mancini ci porta alla domanda che volevamo farle cioè questa occasione per usare l'immagine usata da Renzi è un modo per il PD per recuperare la faccia rispetto ad aver votato una legge che ha reso più peggio il lavoro o per perderla del tutto noi con quella scelta che abbiamo fatto di decidere di raccogliere firme di chiedere quindi ai cittadini italiani di andare a votare è la cosa più difficile in assoluto in un paese dove il 50% o più non è andato a votare il referendum per essere valido deve superare quel cuoro quindi è un'impresa democratica difficilissima quante firme avete raccolto ne abbiamo già raccolte tante le 500.000 che servono per depositarle le abbiamo ampiamente superate siamo già oltre le 600.000 ma il nostro obiettivo abbiamo ancora qualche settimana davanti è portare a casa più firme possibili perché noi vogliamo parlare con le persone vorrei che fosse chiaro il nostro non è una diciamo così una ripicca verso qualcuno no noi facciamo una valutazione molto precisa pensiamo che le leggi sul lavoro fatte negli ultimi 20-25 anni quindi non c'è solo il jobal noi cambiamo anche altre leggi perché quando c'è una legge di Berlusconi una legge della Meloni quando c'è il quesito parto dalla salute e la sicurezza quel quesito lì pone un tema che mette in discussione certe fatte dal governo Berlusconi nel 2003 noi stiamo dicendo che se un'azienda decide di appaltare dei lavori la responsabilità sulla salute e la sicurezza di tutte le persone che lavorano nell'appalto deve rimanere in capo all'azienda che è deciso di appaltare non come sta succedendo adesso perché se voi vedete a Brandizzo le ferrovie dello Stato ma non si sa chi è a Lenel a Bologna è Selunga a Firenze a Palermo bene quindi noi e chi cambiò quella legge lì dicendo che il trattamento economico e normativo di tutte le persone sugli appalti non doveva più essere uguale come era previsto dalle leggi fatte nel 60 fu il governo Berlusconi con il ministro Marovi ci siamo quindi dal nostro punto di vista quei referendum non si pongono solo i problemi del job act anche quello ma si pongono il problema di cambiare le leggi sbagliate fatte negli ultimi 20 anni in questo paese che per me hanno una cosa di fondo tolgono la libertà alle persone perché una persona per essere libera di essere deve essere non precaria non deve essere ricattata deve poter vivere con dignità deve potersi curare deve non morire sul lavoro deve i giovani avere la possibilità di crescere e di partecipare e quindi noi stiamo ponendo un problema di cambiare il modello economico e sociale rimettendo al centro il lavoro l'intelligenza la rimproverano Landini questo è il punto la rimproverano di usare le vittime di queste stragi sul lavoro drammati e lei ha citato Brandizzo ha citato Palermo ha citato tutti i casi più recenti per promuovere questo quesito sul subappalto guardi siamo di fronte a una strage e io di fronte un giovane di 33 anni è morto anche sabato mattina in un'azienda di meno diviniti dipendenti per un carico calato dall'alto io da sindacalista lo dico in modo molto chiaro tutte le volte che sento che c'è un morto sole purtroppo ogni giorno ce n'è una media di tre per me è un pugno allo stomaco perché vuol dire mi sento impotente rispetto ad una cosa che non dovrebbe succedere e mi chiedo cosa devo fare per fare in modo che questo non avvenga perché non può succedere e quando vedo che in realtà la maggioranza dei morti perché questo è il punto avviene in azienda in appalto in subappalto in sottappalto e i lavoratori sono precari vuol dire che debbo intervenire lì certo debbo fare la prevenzione ma allora debbo impedire la logica del subappalto debbo smetterla con la precarietà debbo formare le persone debbo dire che le imprese che non rispettano quelle leggi non debbono partecipare agli appalti non debbono avere i finanziamenti pubblici e questo per me è un tema che riguarda anche le imprese perché questa non è solo una cosa di tutela dei lavoratori renderà più difficile per le imprese competere dicono per esempio Maratin Lacci, Laccioli un'impresa che per competere ha bisogno del subappalto e di sfruttare i lavoratori non ha diritto di competere la competizione la devi fare sulla qualità del lavoro sugli investimenti sul funzionamento e le grandi imprese perché per fortuna in Italia ci sono anche tanti imprenditori seri sanno perfettamente che questa cosa serve anche a loro perché in questi anni la malavita organizzata che controlla pezzi interi dell'economia reale ha sfruttato anche questo sistema di appalto di subappalto la gente è normale lo capisce per fare concorrenza sleale certo ma se nel nostro paese siamo anche in una situazione molti dicono di calo di produttività non è perché le persone lavorano meno ma se c'è questo elemento si è determinato negli anni perché anziché fare gli investimenti che devi fare hai affermato un modello di fare impresa lo dico con le mie parole molto secche questo modello di fare impresa su appalto e subappalto e per carità è un modello che uccide e che quindi va cambiato e che fa male non solo ai lavoratori fa male anche il nostro sistema di imprese e noi ci rivolgiamo anche con l'industria anche le associazioni perché io so che chi vuole fare seriamente il suo mestiere come imprenditore è d'accordo con noi ed è pronto a discutere e a battersi e a lavorare per organizzare le imprese in modo diverso ma allora serve di fronte ai numeri dei morti sul lavoro e dei morti sul lavoro non si può che concordare non solo la ripicca verso nessuno però la dico così uno dovrà se uno è onesto dopo vent'anni che hanno teorizzato che se liberavi il mercato tutto funzionava come siamo messi peggio di prima sono quei siti che nascono da valutazioni ex post mettiamola così da quello che è successo dopo quelle leggi però a proposito di quello che è successo dopo noi qui stasera andiamo anche a ciò che era prima torniamo indietro perché dopo di noi va in onda la torre di Babbella è una puntata interamente dedicata alla figura di Enrico Berlinguer ci saranno Walter Veltroni e Roberto Venigni e dopo ci sarà la messa in onda di Berlinguer ti voglio bene che è un solo sulla 7 qui la famosa foto che ha consagrato il legame inscindibile tra Benigni e Berlinguer insomma noi non possiamo che chiederle un ricordo di 40 anni fa ma anche in relazione proprio al rapporto tra i partiti della sinistra e i sindacati e i governi che erano in carica che clima c'era guardi io non ho mai avuto la fortuna di conoscerlo e di incontrarlo direttamente ho due ricordi uno quando fece la quando ci fu la grande festa dell'unità nazionale a Reggio Emilia e dove anche lì Benigni prese in braccio Berlinguer e ricordo che c'era più di un milione di persone e io quello era un giovane iscritto al partito di Berlinguer che in quella giornata lavorava facendo panini con la salsiccia per tutti quelli che partecipavano e ricordo l'amore che c'era delle persone verso il segretario di un partito cosa che non ho mai più riscontrato e questo elemento è sicuramente secondo me un elemento che fa la differenza perché in quel momento potevi essere d'accordo o non d'accordo ma tu sentivi una connessione affettiva che quello che ti rappresentava provava a rappresentare i tuoi bisogni era uno di te questa cosa si è rotta poi può piacere o non piacere poi cosa è fatto ma questa cosa si è rotta aggiungo sempre nella mia esperienza personale che purtroppo dopo la sua morte ci fu diciamo così tutto il meccanismo che portò allora anche a un referendum l'allora partito comunista decide referendum contro il taglio della scala mobile io ricordo prima che ero un giovane delegato da poco uscito a fare il funzionario sindacale nella mia città nella Fion CGL che quando ci fu questo accordo separato prima ancora di decidere diciamo così che avrebbero poi fatto il referendum ci fu uno scatto dei delegati di allora una specie di autoconvocazione dei delegati con manifestazioni e io ricordo che molti di questi delegati che erano della CGL ma che erano anche iscritti usarono il mio ufficio perché io ero appena uscito come luogo perché loro venendo dalla fabbrica per poter poi organizzare naturalmente queste manifestazioni e ricordo naturalmente io ero giovane avevo 22 23 anni quindi in alcuni casi ero proprio in apprendistato cioè anche per capire per ascoltare quello che avveniva e ricordo naturalmente questo elemento e lo considero un esempio davvero ancora forte che oggi non c'è di chi la faceva politica non per arricchirsi non perché pensava cosa succedeva a sé ma perché aveva in testa l'idea di voler rappresentare un altro modello sociale in cui il mondo del lavoro non aveva problemi cioè Berlinguer non aveva paura a dire che lui voleva essere il partito che rappresentava le lavoratrici e i lavoratori di questo paese non so se è chiaro ecco io credo che quando si è rotto questo elemento si è rotto un elemento che oggi secondo me è quello che ci sta portando al fatto che il 51% non va più a votare perché non si sente più rappresentato da nessuno allora io credo che la democrazia significhi tornare a mettere nelle condizioni le persone di avere fiducia di poter partecipare e di poter decidere questo a me sembra la battaglia che dobbiamo fare era la famosa manifestazione del marzo 1984 eccoci c'è una foto storica ci fermiamo per il super spot ma torniamo ecco Landini fermi pochi secondi pochissimi pochi? pochissimi siamo di nuovo qui noi durante il super spot abbiamo commentato i panini con la salamella che il giovane Landini fece a una manifestazione del partito comunista con Enrico Berlinguer ma insomma Enrico Berlinguer è dedicato il resto della nostra serata sulla 7 con la torre di Babele di Corrado Augias a seguire Berlinguer ti voglio bene con Roberto Benigni in entrambi i casi tra l'altro esatto quindi restate lì noi ringraziamo il segretario Landini per essere stato con noi ricordiamo che c'è tempo un mese per raccogliere le firme la vedremo in giro la vedremo in giro stiamo facendo assemblee sta andando molto bene giovani siamo contenti e avanti perché vogliamo non solo raccogliere le firme vogliamo portare a votare la maggioranza degli italiani per rimettere al centro la libertà di esistere e la libertà nel lavoro e rafforzare un po' la demograzia ci vediamo sabato prossimo non perdete l'appuntamento Maria devi girare devi girare gira gira grazie a tutti grazie a tutti